Quattro gol della Juventus nel posticipo, quattro gol del Napoli nel lunch match, l'anticipo di mezzogiorno, comunque l'anticipo di pranzo e allora tutto nel finale, un gran finale per i partenopei di Walter Mazzari. Servizio. Scaccia la crisi ancora prima che la parola possa essere pronunciata al Napoli di Mazzari, o forse è meglio dire il Napoli di Anderson Cavani, che risponde al turnover dettato dal suo allenatore con una doppietta in corso d'opera che contribuisce alla presa del Dino Manuzzi. Seconda sconfitta consecutiva per il Cesena, che resiste per più di un'ora col vantaggio firmato da Parolo, salvo poi cadere sotto i colpi di un Napoli in formato deluxe. Ficcadenti si conferma a dir poco abitudinario e per la quinta giornata consecutiva schiera la stessa formazione. Vera e propria rivoluzione invece in casa Napoli. Chiamatelo turnover, chiamateli cambi punitivi dopo la sconfitta contro il Chievo. Sta di fatto che Mazzari rinuncia al blocco dei cosiddetti Big, con Cannavaro, Maggio, Gargano e Cavani rimpiazzati da Aronica, Iebda, Pazienza e l'esordiente Sosa. Il primo quarto d'ora tuttavia rende al meglio il concetto di Noia, col Cesena ben imbrigliato in fase di ripartenza e il Napoli alla ricerca dei giusti meccanismi viste le corpose novità in campo. È intorno al ventesimo che gli azzurri vivono la prima fiammata del match, arrivando in area bianconera con Amsic, il cui diagonale viene disinnescato in tuffo da Antonioli. Il Cesena ha un timido sussulto al minuto 26, ma il tiro di Parolo è bloccato in tutta tranquillità da De Santis. È tuttavia il portiere bianconero ad aver maggior lavoro da sbrigare e in chiusura di frazione smanaccia con qualche patema sul destro di Lavezzi. L'inizio della ripresa fortunatamente dà ben altro senso alla giornata. Dopo due minuti Zuniga si traveste da Alberto Tomba dei tempi d'oro, ma ancora una volta Antonioli mura il tiro del colombiano. Sul ribaltamento di fronte Schelotto manda out il diagonale, ma è solo il preludio al gol, che arriva al minuto 3. Cribari, fino a quel momento più che positivo, si fa rubare in modo puerile un pallone da Schelotto, che serve al centro per Parolo, il cui tiro di punta passa proprio sotto le gambe di De Santis. Primo gol in Serie A per il centrocampista classe 1985, che bagna la quinta presenza nella massima serie con la rete che vale il vantaggio per i suoi. Mazzarri si guadagna inoltre la via degli spogliatoi per le eccessive proteste sul presunto fallo ai danni del suo difensore. Le indicazioni del tecnico livornese però arrivano e come, e quando dalla panchina entrano Gargano e Cavani la partita cambia drasticamente. Antonioli intuisce che il pomeriggio sarà davvero lungo e laddove non arrivano i guantoni ci mette la faccia, in senso letterale, per negare a Cavani il pareggio. La buona stella del Dino Manuzzi colpisce ancora il settantesimo, con la conclusione di Gargano deviata da Pia che va a sbattere proprio sull'incrocio dei pali. Per il Napoli sembra una vera e propria congiura, ma non è che un'apparenza. Due minuti più tardi, infatti, la Vezzi anticipa tutti sul primo palo, trasformando il cross di Dossena nella rete del più che giusto pareggio. Ritorno al gol per il Pocio, a secco nelle prime quattro uscite stagionali. Di qui in poi è un vero e proprio monologo azzurro. All'ottantesimo, Zuniga si procura un calcio di rigore a essere onesti decisamente dubbio, che Amsic trasforma con freddezza. Bis per il centrocampista slovacco, al secondo centro in una settimana dopo quello di domenica scorsa contro la Sampdoria. Il Napoli ora è una vera furia della natura e Cavani comincia a far scorrere i titoli di coda sulla gara, con un gran gol sul palo lungo dopo aver evitato Von Bergen. Splendida l'azione dell'uruguaiano, ispirata dall'altrettanto geniale apertura di Gargano. La giornata del presidente dell'Aurentis prende una piega addirittura migliore in pieno recupero, con Cavani che sfodera una vera e propria perla, siglando doppietta personale e poker per i suoi. Colpo giro alla Del Piero per l'ex Palermo, che sale a quota 5 nella classifica marcatori in coabitazione con Eto. Per fortuna del Cesena il match finisce qui. Ficadenti avrà quindi una settimana per lavorare in tutta tranquillità sugli errori dei suoi. Mazzarri, che di tanta tranquillità invece non può godere, torna dalla trasferta in terra romagnola con tre punti e una certezza. Di questo Cavani il Napoli non può proprio fare a meno. Tu, da palermitano, è meglio che cambi canale in questo caso. A vedere Edinson Cavani, Massimo Taibbi, gli viene quasi da piangere. Un gran campione che è andato a Napoli. Un gran campione che è andato a Napoli, benissimo. Tra poco gli approfondimenti dedicati naturalmente... Non era così determinante a Palermo. Non era così determinante a Palermo, però Napoli 5 su 5. Infatti. È arrivata la cinquina. Tra poco tutti i approfondimenti, il Napoli era GX, quattro gol importantissimi. Un gran finale, però Valentina Ballarini, la notizia più brutta di giornata per Cesena. I tifosi romagnoli non è la sconfitta con il Napoli, purtroppo. No, perché hanno perso un grandissimo presidente, ovvero Edmeo Lugaresi, che è scomparso oggi, intorno alle 19, all'età di 82 anni. Vi faccio vedere la home page, il sito della Cesena Calcio, che ricorda così con un addio miura di Edmeo Lugaresi, che è stato presidente del Cesena dal 1980 al 2002 e tuttora era presidente in onorario. Lo ricorderete sicuramente. Io ho avuto il piacere di intervistarlo recentemente, il 17 maggio, in occasione dell'anniversario dei 70 anni del club bianconero. Non stava benissimo, ma vi posso assicurare che non aveva perso la sua ironia, soprattutto non aveva perso la grande passione per Cesena e per il Cesena Calcio. Insomma, è una grossa perdita, facciamo le condoglianze alla famiglia Lugaresi, in modo particolare al figlio, Giorgio Lugaresi, che poi era stato erede anche alla guida del club bianconero. Ci dobbiamo fermare per la prima parte di Che Domenica su Sport Italia. Continuiamo a votare su sportitalia.com, Valentina, brevissimo proprio l'aggiornamento. I nostri utenti, i nostri spettatori, cosa stanno votando, per chi stanno votando? Cinque gol selezionati, dovete scegliere tra Ibra, Vucinic, Cavani, Conè e Zarate. In questo momento è ancora in vantaggio Edinson Cavani, abbiamo scelto il secondo gol, quello del 4-1, con oltre il 38% di preferenze, poi seguono Zarate e Vucinic.